Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati al mio canale, io sono DragonGest, oggi 9 settembre 2022, andiamo a vedere cosa c'è disponibile nei negozi oggetti di Fortnite ma prima, come potete vedere, abbiamo Iris davanti ai vostri occhi ragazzi, quindi il codice di ieri era giusto, era funzionante quindi il contest sarà attivo tra poco tempo, non do ovviamente alcuna sicurezza sul codice ragazzi perché è una skin vecchia e non sono sicuro del codice, ma il contest lo farò lo stesso, poi mi dirà il vincitore se tutto è andato bene oppure no andiamo a vedere intanto che cosa c'è di disponibile oggi nel negozi oggetti di Fortnite in evidenza abbiamo il nuovissimo bundle orgoglio prismatico con Maisie e le sue attrezzature scendiamo per la nostra carrellata veloce, Bubusette del notte notte, Valkyria, Lepre, Lupina, la Maleonte scendendo ancora nei giornali abbiamo Zina, l'esperto di munizioni, le mot bananilonario, carrozza d'ufficio e poi il sali livelli e scendendo abbiamo alza il volume del bundle balla con Quakella quindi c'è il ritorno di Quakella con Alto e Poet e quindi ancora un'altra volta Rock con Quakella con Lyric e Wilder e tutte le motte alza il volume di Svegliati il mio mondo, Rolli, Last Forever, Bim Bum Bam Bim Bam Bum, scusatemi, Bim Bum Bam e tutta un'altra cosa fai il colpo Calzini and Everybody Loves Me e scendendo ancora ci saranno ancora altre emot, pacchetto BTS, Dynamite, Improvvisa Pollo Hey Now, a solo di tamburo, costruiscimi, non cominciare adesso, Gangnam Style, Lama Carena, Feroce e poi abbiamo Alza il volume tutte quante le skin di Alza il volume e le motte fuori le luci a braccio dell'orso belle belle belle, quindi il bundle sul volume e il bundle senti il ritmo e quindi scendendo ancora abbiamo Squadra Bagliore con Flow e Impulso, Ali Abbaglianti, Ascia d'Atmosfera e Bagliore Sonico e quindi Alza il volume ancora, Vida Notturna, MVP Gruppo, Diva del Gruppo, Stella del Gruppo, Vision e Coltelli Leggeri e ancora in Alza il volume abbiamo DJ Pop, Lightstick, Bastone Torcia, Vai con i Bassi, Breakdance, Febbre della Disco e Cavaliere Lucicante e quindi ancora tutto, Cobra Kai, Starfire, Arcobaleno Reale, Patrick Mahome e quindi i bundle offerte speciali della Epic sarà un video lungo oggi ragazzi, torniamo all'inizio intanto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video andiamo a vedere Maisie, la bellissima Maisie di oggi con più stili in anteprima quindi selezionabili Maisie e Night bella 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 ragazzi, torniamo indietro andiamo velocemente oggi tranne che per lei il dorso decorativo teschio arcobaleno bello e reattivo quindi il, scusate, il dorso decorativo teschio arcobaleno reagisce alla musica molto 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 bello, molto interessante ecco qui il piccone che potevamo vincere gratis all'interno del gioco io non ci sono riuscito per il tempo il dorso decorativo teschio arcobaleno reagisce alla musica anche lui e la copertura, copertura arcobaleno ragazzi, una copertura non comune molto molto bella direi, si, 1500 vbaga per portarci questo bandolo a casa ragazzi io prendo proprio insieme a voi, acquistiamo il pacchettino avete visto la nuova, il nuovo modo di comprare adesso di Fortnite però vi farò un video per farvi capire come funziona l'annullare senza aver inficiato i buoni di Fortnite per ridare indietro le compre sbagliate andiamo avanti, avanti, avanti riscattiamo il tutto e torniamo un'altra volta indietro quindi abbiamo preso tutto il bundle scendiamo, andiamo velocemente abbiamo Bubu 7, parata festosa, stagione 5 con più stili selezionabili inquietante, inquietantissimo e sbirciatina e poi il suo dorso decorativo, palloncino della battaglia, 1500 vbaga del nostra abbiamo poi il costume epico, notte e notte fa parte sempre dello stesso set anche lui con più stili selezionabili l'inquietante, inquietantissimo e terrore della notte con il suo dorso decorativo, lama palloncino abbiamo poi il raccogli squake, lo strumento di raccolta da 1500 Valkyria, il costume leggendario da 2000 non lo compro perché ancora secondo me costa troppo aspetto magari qualche giorno un'offerta oppure un set particolare fa parte del set Araldo, stagione 5 e le ali della Valkyria, ragazzi, bella 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 ala gelida, deltaplano leggendario da 1500 poi abbiamo l'epre lupina, neon giungla, capitolo 2 stagione 2 con più stili selezionabili il reattivo, il coniglio neon e il lupo neon e quindi il suo dorso decorativo che cambia stili variando strumenti di raccolta e armi 1500 vbaga, ragazzi, ed è nostra stessa cosa per quanto riguarda lama leonte, ragazzi andiamo a vedere gli stili reattivo il lama neon e il leone neon torniamo indietro e andiamo a vedere la copertura rara, neon animale 500 vbaga, una copertura animata e reattiva scendiamo e abbiamo nei giornalieri Zina, fa parte del set fuori legge dell'ANAS capitolo 2, stagione 2 con più stili selezionabili andiamo a vederli lo stile predefinito e lo stile giacca bella 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 il suo dorso decorativo, scorta tropicale 1200 vbaga, ragazzi, ed è nostra torniamo indietro e abbiamo esperto di munizioni costume raro da 1200 stagione uno, bella 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 anche questa, ragazzi molto particolare abbiamo poi le prime emote di oggi banana eliminonario, 500 vbaga abbiamo carrozza da ufficio, ragazzi carina, molto simpatica 500 vbaga e abbiamo few 200 vbaga, ragazzi ed è nostra oggi ho voglia di regalarla a qualcuno il primo che lo scrive è sua solo uno vetro dorato, 500 vbaga, ragazzi ed è nostro scendiamo, abbiamo i sali livelli poi abbiamo alza il volume quindi il pacchetto alza il volume con alto, vibrazioni soniche il dorso decorativo la bellissima Poet il casco cosmonautico e spacca teste cactico il lettropalma soft lo strumento di raccolta epico e la copertura rara attrazione principale entra nel Coacchella universo e la schermata di caricamento andiamo a vedere gli stili in anteprima di alto e occhiali no vabbè, niente di particolare quindi anche lei andiamo a vedere occhiali sì e occhiali no tutto qua torniamo indietro 2800 vbaga per tutto il set poi potete prenderlo, ragazzi in modo singolo se volete abbiamo ancora alza il volume oggi è lunga alza il volume con Lyric e i suoi stili selezionabili Lyric chic festivaliero e equalizzatrice cosmica poi abbiamo il cattusissimo dorso decorativo costume Wilder andiamo a vedere se ha degli stili selezionabili quindi sì Wilder viora ecco forse questo merita più dell'originale e poi abbiamo il Pimpin al dorso decorativo e quindi spaccatrice da festival come strumento di raccolta e quindi il Pin Neon o lo strumento di raccolta gli oggetti reagiscono alla musica ovviamente e la copertura Pimpin arcobaleno 2800 vbaga per questo bando che potete poi ovviamente prendere tutto in modo singolo se vi piace solamente qualcosa e non tutto poi abbiamo svegliati come emote ragazzi andiamo avanti velocissimi svegliati il mio mondo da 500 vbaga capitolo 2 stagione 6 emote sincronizzata Rolly 500 vbaga capitolo 2 stagione 4 Last Forever capitolo 2 stagione 4 emote sincronizzata 500 vbaga Everybody Loves Me 500 capitolo 2 stagione 8 e Bim Bam Boom 500 vbaga ragazzi e ce la portiamo a casa Calzini 500 capitolo 2 stagione 6 Fai Colpo 500 capitolo 2 stagione 6 e poi siamo tornati a svegliati ragazzi scendiamo e abbiamo il pacchetto BTS Dynamite e ne abbiamo due combinazioni capitolo 2 stagione 4 e la seconda ovviamente è senza le stelline quindi senza i glup 800 vbaga ragazzi del nostro improvvisa pollo 500 vbaga abbiamo poi Hey Now da 500 assolo di tamburo da 500 vbaga bella bella questa costruiscimi 500 vbaga ragazzi del nostro non cominciare adesso 500 vbaga del nostro lama carena 500 vbaga ragazzi Gangnam Style da 500 vbaga capitolo 2 stagione 5 immobile e feroce ragazzi 500 vbaga del nostro scendiamo e abbiamo fuori le luci l'emote da 200 abbraccio dell'orso emote da 200 emote sincronizzata con gli amici e poi abbiamo dissidente melodico ve ne faccio vedere solo uno 1200 vbaga sempre intonata qualunque cosa accada fa parte del set premi gioca capitolo 2 stagione 7 reattivo il costume si illumina e cambia colore a seconda della musica stessa cosa per quanto riguarda la controparte maschile ragazzi scendiamo e quindi abbiamo alza il volume i bundle e il bundle senti il ritmo alza il volume la squadra bagliore andiamola a vederla velocemente abbiamo impulso i dorso decorativo e costumi reattivi i volti stella lucente e sorriso splendente cambiano mentre giochi abbiamo poi il dorso decorativo sorriso splendente flow il costume epico sarebbe la controparte femminile quindi stella lucente come dorso decorativo e lascia ad atmosfera come strumento di raccolta e quindi le ali abbaglianti come deltaplano e abbiamo copertura e baglione sonico ragazzi 2500 vbug per questo set potete poi prendere il tutto singolarmente abbiamo poi alza il volume anche qui ve ne faccio vedere una sola 1500 vbug fiesta design e quindi la bellissima vision con più stili selezionabili il colore predefinito rosa predefinito questo è il dorso decorativo zaino dj il bagliore si e il bagliore no e lei ragazzi che più stili selezionabili quindi lo stile predefinito con la maschera colore predefinito e un altro colore rosa il bagliore si e il bagliore no bella 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 1200 vbug per averla coltelli leggeri lo strumento di raccolta epico 1200 vbug scendiamo e abbiamo ancora alza volume dj pop con più stili selezionabili il costume leggendario dj pop e il predefinito stile remix il suo dorso decorativo gioco di luci fa parte del set doppie piatti stagione 7 poi abbiamo light stick l'emote da 800 vbug molto 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 bella il bastone torcia da 800 vbug cavaliere luccicante il deltaplano non comune da 500 vai coi bassi l'emoto da 800 vbug ragazzi stagione 6 molto figa febbre della disco da 800 vbug ed è nostra e breakdance 800 vbug ragazzi ed è nostra scendo e c'è tutto il bundle di cobra guy fino a scendere e ad aver visto tutto quello che c'era da vedere ragazzi io ritorno in lobby per